Il maltempo ha portato a numerosi rinvii di gare nei campionati dilettanti nella giornata di domenica. Questo è il punto della situazione. In eccellenza, rinviate ai Gervil Verbania e Bellinzago Alicese. Il Borgaro si è confermato al comando della classifica superando 0-2 la Pro Novara. L'Oleggio ha vinto col clamoroso punteggio di 0-4 al Pozzo la Marmora facendo definitivamente crollare le ambizioni di promozione del... Abbonati a soli 9,90€ all'anno! Autosalone tedeschi, concessionari a Suzuki per il VCO, a piedi mulera.